E' stato trovato a terra privo di vita, ucciso con un solo colpo alla schiena. Così è morto Giovanni Guardiglio, 37 anni, pregiudicato per reati legati allo spaccio di droga, originario di Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Non aveva alcun legame con le organizzazioni criminali della zona. L'agguato è avvenuto alla periferia del comune alle appendici del Vesuvio. Le indagini, secondo quanto si apprende dai carabinieri, sono comunque indirizzate agli ambienti legati al mondo della droga. I killer, da una prima ricostruzione, sarebbero giunti sul luogo dell'esecuzione in sella ad una moto. Quindi avrebbero fatto fuoco col penno alla schiena l'uomo. La vittima era sottoposta all'obbligo di firma. Sulla vicenda stanno indagando ora i carabinieri che stanno cercando di ricostruire cosa abbia fatto l'uomo nelle ultime ore di vita e soprattutto verificare chi abbia frequentato.